Ehi tu, si lo so che hai un po' di fretta e vorresti subito guardare l'episodio Volevo ricordarti di passare sulla pagina facebook di Divise Calcio Top per acquistare maglie a prezzi molto bassi E per ogni maglia che acquisterai utilizzando il mio codice sconto, quindi hashtag Marconi, la seconda la pagherai la metà E no caro mio, se compri una maglia o qualsiasi cosa tu voglia comprare con il codice sconto hashtag Marconi La seconda è gratis, quindi non perde tempo fidate Bene ragazzuoli, vi rubo un secondo proprio all'inizio del video per anticiparvi e introdurvi un po' quello che è successo ieri Innanzitutto volevo ringraziarvi perché siete stati davvero tantissimi a farci compagnia per un paio d'ore in live Nonostante anche qualche difficoltà dovuta al materiale che purtroppo non ho per fare delle live come Cristo comanda Quindi vi ringrazio soprattutto per questo, vi chiedo un pochino di pazienza, poca poca e di sopportazione Perché chiaramente adesso ci sarà questo riassunto della live di ieri, quindi non è che la qualità sia perfettissima Lagga poco poco, può dar fastidio, però chiaramente vi invito lo stesso a supportare il video con un bel like Tantissimi, se volete già venerdì un prossimo episodio Il titolo comunque l'avete letto, quindi tenetevi forte, ci sarà da divertirsi perché non solo mercato, non solo partite Anche il maestro Aitonio che mi ha fatto cantare, vabbè, ciao Ci sto? Ok ok, aspetto sempre, sono una persona molto professionale, quindi le mie live iniziano generalmente E poi dico vediamo se c'è qualcuno Oh, quindi teoricamente adesso veramente aspettiamo che entra un minimo di gente E poi facciamo la cosa più bella che fanno gli youtuber Qual è la cosa più bella che fanno gli youtuber? L'intro Che io non ho un intro, lei deve sapere maestro, io faccio sempre l'intro alla pene di Segugio Perché così è bello fare E allora, salve a tutti ragazzi e finalmente direi bentornati con questa maglietta qui Perché siamo tornati con la Roma dopo la parentesi italiana, azzurra, mondiale, in Russia Vinto in maniera molto enfasiatica per così dire Se può dire enfasiatica maestro, lei dalla regia, no? Perché magari, chiaramente salutiamo il maestro Aitonio Che può comparire, ci va a comparire la testa un attimo solo Oh, che cosa emozionante Ricordiamo che stiamo trasmettendo da Ho un'idea studio Quindi un ringraziamento in particolare al maestro E io direi che possiamo passare di là Vediamo un po' maestro Ci faccio a passare di là con una piccola transizione molto simpatica Quando vuole lei Ciao Fe, ciao a tutti Ragazzi, siamo in questo momento tipo 200 Stiamo per partire E voi cominciate Io guardo là per abitudine In realtà cominciate qui sotto a darmi tantissimi consigli per il calciomercato Io ho già dei nomi caldissimi Perché mi sono fatto venire molte idee fighe, divertenti e buone come il pane Ma, ecco, prendi Firmino Era già un'idea, infatti E dove siamo? Ho un'idea È meraviglioso Quanto sono autistico Allora, come vedete Anche quest'anno giocheremo Ditemi se urlo Perché in realtà io urlo tanto Questa coppetta qui Quindi coppa precampionato Che ho accettato chiaramente l'invito Durante i mondiali Voi non l'avete visto perché chiaramente stiamo facendo il mondiale Questo è il nostro girone Con appunto la Roma Poi Higgins Liverpool LA Galaxy Quindi Los Angeles Galaxy Io volevo un attimino condividere con voi I miei obiettivi di mercato E quindi Allora, io mi sono segnato quattro nomi Quattro nomi importanti Il primo è Verratti Perché mi ha impressionato tantissimo al mondiale Però avevo anche inserito un altro centrocampista Che è Tuzar Del Lione Se non sbaglio Quindi Cosa succede? Che Verratti è la prima scelta Ma è complicato da prendere Se non riuscissimo a prendere Verratti Che vado ad inserire nel Hub Mercato Evidentemente Proveremo a prendere 80 milioni Non ce l'abbiamo Effettivamente Però insomma Vediamo cosa fare Proveremo a prendere Tuzar Che magari spero Costi un po' meno Ecco i prezzi non li ho visti Quindi faremo tutto insieme E speriamo bene Quindi questi sono i due nomi Che sono a centrocampo E voi direte E poi Tra l'altro Tuzar Meno il punto di vista dell'età E' anche messo meglio 21 anni Chiedi di seguire E soprattutto aggiungi la lista Perché adesso vediamo un po' Forma ok A Lione A centrocampo poi abbiamo anche diversi nomi Perché abbiamo preso l'anno scorso Una biccaità Dall'Ipsia E quindi tanta roba Goretzka Sebajos Barella Ci consigliano Cosa succede ragazzi? Che Allora A me è venuto in mente il nome Verratti Perché a centrocampo noi Come vi dicevo Adesso Lo vediamo insieme Siamo molto coperti Perché abbiamo Nangolani e De Rossi Lasciate perdere Danielino Purtroppo è morto Perché ha finito adesso il mondiale Abbiamo Gerson Che è rientrato dal prestito Abbiamo Pellegrini Quindi Ricordiamoci che di nomi caldi Ne abbiamo tantissimi Come vi stavo dicendo I centrocampisti non ci mancano Quindi prendere una giovane scommessa Quando comunque abbiamo già Gerson Da far crescere Pellegrini Che comunque è giovane Per quanto poi abbia fatto spesso Il titolare quest'anno E' chiaro che ci starebbe un bel colpo Arriva a 90 Barella Sì però noi abbiamo sempre fatto Una carriera mix Cioè non soltanto giovani Da far crescere Non abbiamo il tempo materiale Molti Ecco volevo aprire e chiudo una parentesi Mi hanno dato della pippa Quest'anno Perché non abbiamo vinto Non abbiamo fatto il triplete Fondamentalmente Perché poi obiettivi raggiunti Siamo stati secondi in campionato Ottavi di Coppa Italia Ma buttati fuori dal Barcellona Dopo averlo comunque battuto 3 a 2 in casa E Vittoria in Coppa Italia Abbiamo vinto i mondiali E indovinate un po' Fede gli ha abbassato la difficoltà Sei una merda Vabbè ragazzi Mi fa molto piacere Che comunque siate coerenti Con voi stessi Effettivamente Sono coerenti Perché se prima sei una pippa Se perdi Ti pare che poi vinci Cioè qualcosa non va Comunque Ma Tolisso Ci ho pensato Infatti è in miniatura Detto questo Io Tolisso lo vado a cercare Perché sapete È un debole Ma ce l'abbiamo un po' tutti Un debole per Corentin Tolisso Che tanto ci ha fatto urlare Con il Leister L'anno scorso Quindi sarebbe veramente bello Poterlo riportare a Roma Anche lui è molto gioco Poterlo portare No riportare Riportare alla corte di Marconi Magari Non a Roma Lui costa meno di Verratti Tanks are dick Come avrebbe dati Però vediamo un attimo Se il Bayern è intenzionato Soltanto dopo un anno A venderlo De Pai come ritorno a Roma De Pai lo vado un attimino A controllare Non mi dispiacerebbe Anche perché da quella parte Abbiamo Perotti E basta praticamente Quindi Vediamo un attimo Memphis De Pai 22 milioni Non sarebbe male Adesso ci spostiamo Sugli altri due nomi Perché vi dicevo Non voglio fare gli stessi acquisti In passati Perché effettivamente Qui subentra un nome Che in passato Ci ha regalato Tante gioie E urla Ron Robert Ziller Perché? Perché a me dispiace È un portiere Che io adoro Non Ziller Quello che vi sto andando A dire insomma Che però Su FIFA Purtroppo hanno deciso Di fare abbastanza scarso Alisson Che è un portiere Che nella realtà Spesso Ha tenuto a galla In maniera decisiva La Roma quest'anno È un portiere Che io spero La Roma non venda Almeno nei prossimi Cinque anni Perché è Alla base della squadra Però su FIFA Ha lasciato molto A desiderare E quindi Lista preferiti Del lube mercato Poi chiediamo anche Di seguirlo Si potrebbe anche Creare un Ecco allora Qui volevo chiedervi Un consiglio Secondo voi Se andassimo a prendere Ziller Intanto fatemi sapere Cosa ne pensate Ziller Perché me l'avete chiesto Tantissimo quest'anno Cosa dovremmo fare? Alternarlo Con Alisson Oppure Con Skorupski Perché Skorupski Comunque ha fatto molto bene Quando ha giocato Quest'anno in Coppa Italia Siamo più di 400 Che fantastica Questa cosa Che bellissima Che in alto a sinistra Gli iscritti Di Vede Marconi Che continuano A aumentare No a diminuire Ho detto stai cosa Si è diminuito De uno Skorupski Vendi Alisson Eh vediamo anche Se facciamo dei soldi Più con Alisson O con Skorupski Perché ragazzi Purtroppo ricordo Che siamo la Roma Non in Real Madrid Dobbiamo anche vendere Maestro Giusto? Lei mi si mette dietro Io ho paura Quando lei mi sta dietro Diciamoci questa cosa Allora Andiamo su Ub Rosa E allora Skorupski Vediamo un po' Eh qua Effettivamente Non è che ci sia scritto tanto Alisson neanche Però contattato Alisson Alisson Cioè Comunque Alisson Già È richiesto Quindi questa cosa È molto interessante È richiesto La squadra Atletico Madrid È interessata A questo giocatore Il suo valore di mercato Tra i 24 E i 36 E loro ci hanno fatto Un'offerta Ai 18 Beh posso Tadder tu Atletico Così è Comunque Tratta Che poi no Andiamo a trattare Le perali Sono dei che Non Non vorrei vendere Un portiere Non sapendo Cioè Non essendo coperto Però ormai Siamo qui Vediamo un attimo Un punto d'incontro Allora Fa nuova offerta Per il cartellino E quindi Io vi chiedo Nettamente di più Vi chiedo 30 35 35 Perché comunque La 37 Maestro lagga parecchio Lagga parecchio Se ne sta accorgendo Ci si lamentano anche Rimediamo subito Per il lag Non vi preoccupate Vediamoci incontro 20 milioni Mi sta più a per culo Cioè Dillo proprio chiaramente Io 20 milioni No Ma no Neanche proprio no Siamo sui 30 39 25 No 25 No 25 No Rimanda Ci serve del tempo Perfetto Anche perché così Possiamo spostarci su Ziller Per le cessioni Restiamo in zona Perché Carsdorp ragazzi Carsdorp Aggiunge la lista Trasferimenti E se possiamo Lo mettiamo Come contro Come contro partita Di qualcuno E Terzini destri Vorrei avere Florenzi titolare E far crescere Nura Che ha fatto Come avete visto Benissimo Nel fine di stagione Quando l'abbiamo impiegato Poi Vediamo cosa fare Con One Jesus In realtà Anche lui Potrebbe essere Una pedina di scambio Interessante Abbiamo tanti centrali Abbiamo Delict Che sta crescendo Abbiamo Manolas Abbiamo Fazio E abbiamo Anche Anche Mascherano Quindi One Jesus È sicuramente Un Uno di troppo Poi Lasciamo perdere Falasco Sec Capradossi Magari che giriamo in prestito O qualcosa del genere A sinistra Con Emerson E Kolarov Siamo ben coperti Anche se magari Scambiare Kolarov Per un top A sinistra Non sarebbe male O anche per un giovane A quel punto Emerson farebbe il titolare Prendiamo un giovane Consigliatemi Un terzino sinistro Ragazzi Barreca 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 Perché è un nome Che si era fatto L'anno L'estate scorsa Per Per la Roma A questo punto Calza Pennello Perché potrebbe fare Lista Hub Mercato Bene Stiamo aggiungendo Parecchia gente Non abbiamo ancora Fatto offerte Concrete Ma adesso In qualche modo Rimediamo Spostiamoci appunto All'ultimo nome Aggiungiamo anche lui Già che ci siamo Roberto Firmino 28 milioni Ah Già sta in lista Allora mi sa che ho l'Alzheimer Perché l'avevo già aggiunto Quindi 4 nomi avevo fatto io Verratti Tuzar Ziler E Firmino Adesso vediamo chi è Fattibile Vediamo di Concludere qualche offerta Finalmente fai andare via Quel morto di Dzeko Eh l'idea Anche no In realtà Aspetta 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 Perché Firmino È un sogno E Adesso che mi hai fatto Ripensare a Dzeko Non ti nego Che Mentre prima Mi scrivevo i nomi Pensavo a Firmino Ho detto Vabbè chi parte tra Schick 5 100 Sopra i 500 Grandi Sono contentissimo ragazzi Un bacione Siete tantissimi Ed è molto bella questa cosa Timo Werner Tutti quanti Allora Io ringrazio per Chiaramente I consigli Degli attaccanti Che ci state dando Una cosa però Dzeko nel finale di stagione Ha segnato no tanto Di più Gol decisivi Tra l'altro Tanto è vero che Si è giustamente Preso la dedica Anche di un titolo L'uomo dei gol decisivi Uno slogan Che ha rispettato anche In finale di Coppa Italia Contro la Juve Schick Può crescere E ha fatto molto bene Quindi Firmino Non vado a chiederlo Io adesso Me l'hanno dimenticata Questa cosa Perché stavo un po' Pensando allo Dzeko attuale Ho detto Tra Schick e Dzeko Chi vendi Dzeko anche per l'età Comunque Qua vedete Qua vedete anche quelli vecchi Attenzione Quindi non Non confondiamoci Allora Contatta per acquistare Marco Verratti Vediamo un po' Quinto in tendenza Del live Fede Dai Sono contento 516 siamo In questo momento Liato di vederla Grande Allora Andiamo avanti Accordo per Verratti Non lo troveremo mai Fidatevi Scambio giocatori però E allora proviamo a fare Carsdorp 25 milioni Ci può aiutare Carsdorp Vediamo un po' Purtroppo non ci interessa Ok Non ci interessa Carsdorp E allora Offerta per il cartellino Gli offriamo Partiamo Per trattare da 50 Sono tantissimi Partiamo da 40 Sono tanti lo stesso Ma sono pochi Per quello che vogliono loro Chiaramente Ho l'impressione Che stiamo solamente Perdendo tempo Arrivederci Bene Verratti era un sogno A me sa che rimarrà tale Anche se odio Quando Si comportano in questo modo Quest'anno purtroppo FIFA ha inserito questo Questa modalità Che potrebbe essere Sovrannominata A me sento sto cazzo Perché c'è Veramente Ti tratta in un modo Non puoi trattare Cioè loro hanno La presunzione Di chiederti i giocatori A due spicci Noi invece Dobbiamo per forza Offrire miliardi Andrei Su Tuzar Che comunque potrebbe essere Un acquisto concreto Potrebbe essere un nome concreto Per il mercato estivo della Roma Anche se loro non ci hanno ancora detto Quanto potrebbero volere Quindi adesso lo capiamo Anche qui in realtà Vorrei fare uno scambio I giocatori Perché A quel punto Si accettano Carsdorp Magari non vi dico Lo prendiamo gratis Però Vediamo un po' che dicono Possiamo prendere Ok Però ci serve un giocatore Nel seguente ruolo Centrocampista E allora offri altro giocatore Vediamo un po' che centrocampisti Possiamo offrire Con Alon Ragazzi 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 Gli mando Con Alon A Lione Se lo accettano Li do fino a domani Eh sì Bello Ok Hanno accettato Con guaglio Di 14 milioni 15 milioni A zio Aspetta Aspetta Anche meno 9,50 Che comunque volevano 15 Ma più Gonalon però Più Gonalon sì Eh sì ma Cioè Non so se è un affarone È un affarone Per il semplice fatto Che Nella realtà Non sarebbe pure Eh Gonalon Ha una certa età Lui è giovanissimo A 21 anni Ho un sacco di centrocampisti Quindi Dar via Gonalon Comunque Mi fa solamente piacere Vediamo un attimo A fare fatto Ci stiamo avvicinando Ma ne vogliono 10 E 6 Che palle che siete Certo Sempre meglio De Verratti Però Eh Nuova offerta di cartellino Vedete no 10 e basta Se spu e basta Se spu No È un'offerta Ok Hanno accettato per Tuzar Adesso trattiamo per il giocatore E potrebbe essere Il nostro primo acquisto Estivo Perché non capisco Per quale motivo Ci siano alcuni Prima di tenere live Con la metà degli spettatori Ma infatti Cioè non Non si spiega Questa cosa Bella Fede Bella Giorgio Quando vuoi studiare Ma c'è Fede in live Grande E Grazie per averci ricevuti Ok Allora Cosa volevano Ruolo squadra turnover Ah ruolo squadra turnover Bene Accetto perché ragazzi Sapete come la ragiono io Sempre meglio dargli poco In modo che si aspetta poco E poi magari Farlo diventare un titolare Va benissimo Poi Stiamo Ora Parliamo del contratto Contratto Non hanno specificato loro E allora io Ho tre anni di contratto Gli rimetto Vediamo un po' Non è soddisfatto Cinque anni Ehm Ancora meglio Vai Mi sembra accettabile Andiamo avanti Immagino la sita score Clausola Recissoria Vuole Ehm La clausola Va bene Accettiamola Accettiamola Tanto comunque ragazzi Non viene qua per fare il titolare Magari poi Non neanche ci fanno offerte Ehm E quindi non Compra Tyson Questa è una carta vincente Per la squadra Ok ben serenità Clausola Adesso Stipendio Allora lui vuole Non lo dice E allora noi Gli diamo Che percentore Gli diamo intanto Diteci Stipendio Non so veramente Cosa dargli Quanto prendeva A Lione Non si sa manco quello Mi sono perso Lo stipendio E allora facciamo Non ne ho idea ragazzi Così Magari facciamo 30 Giusto perché Non so quanto prendeva lui E un 10 Che comunque Stiamo dando tanto Però non so Il tipo di giocatore Vediamo un attimo Che dicono La cifra è ridicola No come non è più Ma te vai Ma vedi che sta cosa Quest'anno la odio Ma non puoi Ma ci credo Ma non si può 15.000 Gli ho offerto 30.000 Se n'è andato Ok Devo toglierlo da qui E poi Rifare l'offerta A questo punto Andiamo su Barreca Scambio giocatori Oppure offerta per il cartellino Offerta per il cartellino Andiamo su Barreca Perché qui non Ci dicono quanto Quanto serve Allora il maestro Mi si mette davanti E tutto molto emozionante No ci siamo Partiamo da 20 10 milioni 10 milioni Per Barreca Vediamo un po' Lui suona la chitarra Adesso Questa Ti parreca Una storia Ma cosa 15 milioni Siamo disposti 19 Lui dicono 19 Allora incontriamoci A metà strada 15 Che tra l'altro Ringrazio Matteo Che ce l'ha consigliato Mi dispiace Non siamo disposti A abbassare ulteriormente Il prezzo Contro offerta Ragazzi Non è che noi Dobbiamo sempre stare Con la bava alla bocca Non è possibile 17 Ancora a metà strada Vediamo un po' Accettate per favore Abbiamo già fatto il prezzo Quanto sono stronzi Vabbè 2 milioni Li accettiamo Li accettiamo Magari deve fare 3 go Barreca 3 go Gli deve fare il Torino Se arriva a Roma Ok Ho raggiunto l'accordo E ci vorrei Anche Ci siamo dovuti Calare le mutande Proprio E mettere la pecorina Per prendere Barreca Però adesso vediamo Allora benvenuto Vediamo di non fare Cavolate come prima Allora Ruolo di partenza Direi promessa Se per te va bene Vediamo un po' Non ci siamo Vorrebbe avere la possibilità Di lasciare il segno Partendo di dare Superi tanto la panchina Quindi Teoricamente Importante Importante sì Il mio assistito È soddisfatto E va bene Andiamo oltre Lui chiede 4 anni Lo accontentiamo subito Accetta Andiamo avanti Ora proponi Clausola Ignora Clausola Ignora Clausola Parliamo di soldi Ragazzi mi fermo Quanto gli do Perché prima Proprio ci hanno chiuso La porta in faccia Con tanto de schiaffo E se ne sono andati Quanto diamo a Barreca 80 Vado su 80 Allora eh Sì no Anche meno 80 Vediamo un po' Mamma mia Io c'ho paura Sì L'abbiamo preso Ragazzi Lui è ufficialmente Il primo acquisto Della Roma Barreca Bene così È un nuovo acquisto E sono molto soddisfatto Non l'abbiamo scambiato Quindi a questo punto Mettiamo in vendita Kolarov E vediamo un po' Se c'è qualcuno Che può essere interessato A lui Premiamo dei pai Perché a quel punto Facciamo il colpaccio Tra l'altro Costa veramente poco Almeno teoricamente Anche se loro Adesso ci chiedono 150 milioni E un pompino Verde Paglia Nel senso Però Allora Scambio giocatori però Perché sono Cunioso di vedere Se a loro Può interessare Karsdorp Alla sinistra Gli serve A parte che mi ha messo Kolarov Perché Comunque Offri altro giocatore Alla sinistra No Chi te offro Alla sinistra A parte però Tietra il Sharawi Se abbiamo loro due Effettivamente Allora Il Sharawi no Perché spesso L'ho messo a destra Ecco perché Non l'ho consigliato Alla sinistra Offerta per il cartellino A questo punto E offriamo 25 milioni Dicono 36 Noi ci avviciniamo A metà strada Facciamo 30 Fatemi sapere Intanto chiaramente Che ne pensate Di Depay Se non riesci a prendere Di Depay Prendi Insigne Non sarebbe male Insigne Anche perché Andremo a indebolire Il Napoli Però vediamo Insomma Ok Vediamo che dicono Non siamo disposti Ad abbassare ulteriormente Il prezzo Lascio un attimo Così ragazzi Mi dispiace Non sono riusciti A concludere Lascio così Perché se no Veramente Vediamo Devo togliere anche lui Lo tolgo un attimo Poi lo rimettiamo Verratti Lo tolgo E non lo rimettiamo Chiaramente perché Abbiamo Altri obiettivi Sul mercato Non lo prenderemo mai Però adesso Vediamo un attimo Insigne 50 Allora Vabbè Depay non serve L'ha scritto una persona Depay no No ok Cominciano ad essere due Perché comunque C'è incertezza Anche tra di voi Io vedo un attimo Quanto mi chiedono Per Insigne Dopo che ho visto Quanto mi chiedono Per Insigne Nel frattempo Possiamo anche rifare L'offerta a Depay Perché è passato Un po' di tempo Ma se io dessi Così Cars d'Orp Al Napoli Ok Ok Attenzione 63 View Cars d'Orp Ma voi Ve fumate Ve fate De crack Ve fate Vi ripeto Ragazzi Insigne costa più Di Depay Ma magari C'è anche un motivo Ascolti La sua offerta È troppo bassa Ma saremo Disposti Da 48 Vogliamo Voglio includere Una clausola Per la rivendita Controfferta Allora la clausola va bene Però 48 No Offriamo 40 Perché se ti do più di 40 Non mi conviene Dovrò fare meglio di così No Mi dispiace Termina trattativa Non gli do 50 milioni Perché Se Depay Potevamo prenderlo A 36 Diventano quasi 70 Cioè sono tanti Perché Mentre per Depay Non abbiamo inserito Cars d'Orp E quindi Comunque Non ci sono Quei 25 milioni in più Qui sono tantissimi Perché ci sono anche i soldi Di Depay Scusate Di Cars d'Orp Avanziamo un po' Le partite del torneo Ragazzi le simuliamo Perché Ci portano via tempo Abbiamo tante cose da fare Adesso facciamo anche gli allenamenti Nura vorrebbe Vorrebbe giocare Pellegrini anche Allora Intanto Vabbè Gli allenamenti adesso non possiamo farli Facciamo la formazione Per questa prima uscita Contro Liverpool Facciamo un leggero turnover Con giocatori Che poi comunque possono giocare De Rossi non si è ancora ripreso Gioca Pellegrini Scambio Bellotti Il Dzeko Non conviene Dzeko ha fatto un sacco di gol Vediamo un po' Trofeo Las Americas 1-0 di Pellegrini Proprio Che ci ha chiesto di giocare Fa tanto piacere Grande Lollo 2-0 di Dzeko Che risponde così Alle critiche 3-0 di Dzeko Doppietta Li stiamo distruggendo Al sessantesimo Sempre 3-0 Per la Roma 4-0 di Nura Ragazzi sono contentissimo Se neanche Perotti 5-0 A Liverpool Li abbiamo massacrati Massacrati Bene così Sono veramente contentissimo Perché hanno segnato Sia Pellegrini Che Nura Che sono quelli Che mi hanno chiesto di giocare Quindi fa veramente Tanto piacere Chi ti serve Fede? Allora Un portiere Ho il dubbio Se prendere Ziller o meno Infatti ho stoppato La trattativa Della possibile cessione Di Alisson Quindi più che un centrocampista Magari un trequartista Perché noi abbiamo Keita adattato E Marezza adattato Non abbiamo un trequartista Avere proprio Andiamo anche A giocare questa seconda Amichevole Questa seconda Poi mi era di amichevole Ma amichevole non è E allora si comincia Speriamo bene Perché Vincere significherebbe Passare il girone sicuramente Magari anche da primi Situazione abbastanza in equilibrio Segnano Già una uno Risponde per otti A McBean Finisce il primo tempo Si è fatto male Emerson Speriamo non sia nulla di grave Ragazzi Non è stato neanche sostituito Quindi non dovrebbe essere Nulla di grave Forse Situazione sempre ferma Sull'uno a uno Quando siamo veramente Allo scadere Di una partita che Finisce ora Uno a uno Comunque intanto giochiamo Questa partita Terza e ultima del girone Per passare È fondamentale Vediamo un po' Il Liverpool Già vince Un der Un der per l'uno a zero Al tredicesimo Siamo al Al quarantesimo Intanto siamo Di nuovo quasi 500 Io vi mando Un bacione Grazie a tutti Sessantesimo Situazione pericolosa Ok Due a uno Roma Mamma mia Situazione pericolosa Stavo dicendo Non voglio la beffa Nel finale Che è clamorosa Non voglio la beffa Nel finale Due a uno Due a uno Benissimo Un altro che amo io Un altro che amo io Ragazzi Intanto adesso vi faccio vedere Chi è che amo io Certo che Non ce lo daranno mai Però Io c'è una squadra Con cui mi trovo molto bene Quest'anno giocare a FIFA E dai Napoli Già per insignie Ci hanno fatto I disorci verdi Però Io una piccola Perché il ruolo è quello È il ruolo suo È il ruolo suo Certo è tanto È tanto Maestro Secondo lei Ce lo danno Chi? Eh venga a vedere Porco Manco metti gli offerti Comunque sia Guardalo Sponsorizziamo Ovviamente Ci hanno pagato Popcorn Pandal Comunque Mertens Mertens Se non gli fai un'offerta De Mertens Sì Si è appena trasferito Allo United Quindi Fekir Via Trovisto si può adattare Però è un altro che si adatta Non è il suo ruolo Mertens ragazzi Non ce lo daranno mai Ti provo ragazzi Scambio giocatori Io punto sempre su Sul buon Carsdorp 33 milioni Cioè ci hanno chiesto meno Per vabbè Ci sta in realtà Ci chiedono meno per Mertens Perché è più vecchio Rispetto a insignie Ma parliamo di Mertens Cioè lo sapete cosa vuol dire Mertens Non so se Se rendo l'idea 25 Li alziamo sicuramente 25 e mezzo Però sono curioso di vedere un po' Se possiamo venirci incontro Ragazzi ho il battito a tre Oddio io ho accettato Mertens Stai scherzando Hanno accettato Mertens subito Al primo colpo Ragazzi Hanno accettato Mertens Hai speso 50 milioni Per un 31enne No Non ho speso 50 milioni Ho speso 25 milioni E poi se gli ho dato 25 di Karsdorp Ci facciamo poco Perché Karsdorp Non ci sono molte squadre che lo vogliono Infatti non sono anche le offerte E ha strade l'uso le aspettative Non è neanche detto Che accetterà lui l'offerta Che dice qua Andiamo a trattare Io provo Io provo ragazzi Io provo Mi scuso con quelli Che non sono d'accordo Però può capitare Non siamo tutti uguali Non la ragioniamo tutti Nello stesso modo Non l'abbiamo preso Non gufate che mi dite Ottimo acquisto Che c'ho paura Io poi Allora A meno di essere di tornare Una settimana Questo mi pareva ovvio Cioè nel senso Accetta no Ok Bene Andiamo oltre Qui non schippo nulla Perché è fondamentale La parte poi del prezzo Non voglio saltarla C'è parecchia concorrenza Che dicono Chiede tre anni Ok accetta Anche perché poi scenderebbe Tra tre anni e trentaquattro anni Comincia a essere La clausola no Sennò poi arriva la you Allora Lui vuole Bonus ingaggio Un milione Quanto? Ah no Aspetta aspetta Si può fare Perché il bonus È quello di un milione Siamo disposti Abbiamo preso Mertens Abbiamo preso Dries Mertens Non so se avete ben capito Dries Mertens È un nuovo giocatore della Roma Questo sì Questo sì Se rimuovevo il bonus Sapete come finiva? Che si alzavano Alzavano i tacchi Così proprio Se ne andavano Ed è una cosa Che io volevo evitare Perché in passato Questo FIFA Ci ha fatto capire Che così è Quindi Abbiamo preso Mertens Dagli è buono come il pane Offerta per Kolarov Questo è ottimo E 3 milioni Che non ci fanno schifo 5 milioni D'allerta a Berlino Per Kolarov Vediamo un attimo Perché lui Costa 6 Quindi io Ti faccio una controfferta Di 8 magari Quanto maestro? Sì 7 8 7 e 8 7 e mezzo E lui parte con Kolarov Va Serenata Aspetta Mentre tu ci pensi Io faccio Kolarov qui Io la rovino Perché sennò Capirai Ah certo No comunque Allora Funziona Funziona Sì sta funzionando Siamo noi in pausa Perché il maestro Fa analisa A questa ambizione della vita Avanza offerta Vediamo che dicono Vorrei farti analisa No vorrei fare analisa Anche io vorrei fare Odiavo Chi è che non vorrebbe Farsi analisa ragazzi Abbiamo preso Barrega Va bene accettiamo E allora ok Abbiamo venuto Kolarov Allerta a Berlino In realtà Dobbiamo ancora aspettare Che lui accetti Perché noi abbiamo accettato Ma c'è il giocatore Che deve accettare Facciamo una canzoncina Dai questa qua Ok Vai Così non pensi Almeno fai qualcosa Sì d'accordo Ma poi Tutto il resto È noia No Non ho detto gioia Ma noia 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 S'ho suonato Vegene tu zia qua pelata Però fa ride Fa ride Fa ride in botto Ora Avanziamo intanto Per la finale Di questo torneo E ci stiamo avvicinando All'undici Rimani fuori Dal mio diario Degli errori Da tutte le mie Non mi ricordo più Contradizioni Non mi ricordo Da tutti i porti E le ragioni Dalle qualcosa Che convivono Con me Qualcos'altro Che convivono Con me Mi fate bagnare Allora Facciamo che Dopo questa finale Chiudiamo Intanto salvo E facciamo che Dopo questa finale Chiudiamo La live Anche perché Poi saremo Procinto dell'undici Della supercoppa Che vedrete prossimamente Quindi questa finale La giochiamo Però dobbiamo Spostarci su Game Capture Maestro Io direi Comunque Ali sono in Porta Poi Fazio Manolassi Due centrali Ci potrebbe anche stare Vorrei provare Delict Titolare A questo punto A fianco di Costas Manolassi A sinistra Ci mettiamo Emerson Perché sarà il titolare Quest'anno Quindi gioca lui A destra penso Florenzi Assolutamente Titolare Dopodiché I due centrocampisti Saranno dei rossi E non Tra l'altro La formazione L'avevamo fatta Sto facendo una cazzata Io A rifarla Perché l'avevamo fatta Volendo simulare La partita Però dai Visto che la giochiamo Mettiamo un po' Di titolarità Magari Pellegrini Al posto di Nainggolan Teniamo così Poi Mertens E il Sharawi Perotti Vediamo un po' Se tenerla così Sì perché a sinistra Ci sarebbe forse Marez Al posto di Perotti Che non è proprio Al cento per cento Proviamolo Riad Marez Con il Sharawi A questo punto Largo a sinistra Si comincia Con la Roma In possesso di palla Roma che Ha avuto nel girone Un'avversario ostica Come il Liverpool Battendola per 5 a 0 Poi il Los Angeles Los Angeles Galaxy Pareggio per 1 a 1 E vittoria contro Lippic O come si chiamava Perché francamente Non ricordo Poi vittoria Anche in semifinale Contro il Villareal E finalmente finale Contro un Atletic Bilbao Que ha eliminato proprio Il Liverpool A calci di rigore Parte lo spiovento All'interno dell'area Mette fuori Marez Poi Tomas Bravissimo Mertens Che gli scippa il pallone Vuole partire in contropi della Roma Il tocco della Belga E per Dzeko Sta riandando Marez In velocità Si propone Marez Che corre Lo rinsegue Arezzo Marez La risposta di Errerin A negare la prima gioia giallorossa Seppur nel pre-campionato Al neo acquisto della Roma Vuole convergere Così fa Poi cambia il gioco Preciaui Gran pallone Tocco dentro De Rossi Con il destro chiuso Ancora De Rossi L'ha presa Errerin Ma comunque c'è voglia di far bene Ora Raul Garcia dentro Ed eccolo qui Il gol di Stoljunkovic Athletic 1 e Roma 0 Alla prima vera palla goal Larghissimo per Merino La sua finta Sempre Merino Lascia partire il cross In Agui Williams 2 a 0 E saltato in testa ad Emerson Che nulla ha potuto fare Si riparte dallo 0-2 Una Roma che deve cambiare marcia E soprattutto fare gol Poi apertura ottima Liberale Vesga In linea di rigore Vesga prende il fondo Dentro Alisson Qui ha fatto una grandissima parata Alisson Da Marez C'è Mertens da far correre Ecco il pallone per Dries Mertens che ha preso il tempo Ha dato via Mertens Destro di Mertens E la Roma Rientra in partita Proprio con il Belga Che qui non poteva sbagliare E' andato con il destro A giro alla sua maniera 1 a 2 Grande gioco da qui di Mertens Che lascia sul posto Merino Poi se la porta sul destro Lo fa girare all'incrocio E Roma che riepre la partita Poi Schick si appoggia Centrale a Mertens Occhio che la Roma Può attaccare centralmente In realtà era Marez Che va via Percussione di Marez Fino in fondo Sinistro Sul fondo Rimessa Roma Facciamo correre un derdi qua C'è Schick nello spazio Non era preso il tempo Come con la Juve Poi dentro da Schick C'è anche Mertens Palla dentro Dries Mertens 2 a 2 La doppietta di Mertens Che tiene a galla la Roma E questa si che è la notizia di giornata Mertens da Napoli Eccolo qui L'acquisto Più discusso In positivo e in negativo Dell'estate giallorossa Fino a questo momento Un gol alla Insigne Contro il Portogallo O un GDM Fate voi Ma è comunque 2 a 2 Correre Emerson 82 in corso C'è un derda Alla parte opposta Lancio a liberare Gengiz Che bel lancio Per Gengiz Che arriva sul pallone Al centro Schick Che prende posizione Il cross E' per Schick Errerin Errerin Salva il Bilbao La Roma vicina al 2 a 3 Alla remuntata E allora Torniamo a leggere un po' di commenti Prima dei Penso calci di rigore Perché in questa competizione Dovrebbero esserci calci di rigore Calci di rigore A decidere questo Torneo estivo Di precampionato Stoljunkovic Che ha sbloccato il match 1 a 0 Spiazzato Alisson Florenzi Sì Sotto l'incrocio Florenzi Ora tocca a Merino Prova a Distrarlo Alisson Merino No Vedete Alisson questa cosa L'ha fatta l'anno scorso Comunque Si fa sempre passare la palla Sotto al braccio Ora Mertens Sì anche Mertens Spiazzato Errerin Adesso deve parare Alisson però Partinaghi Williams Traversa Traversa Non è gol Come disse Caressa ai mondiali Marets Sinistro Sinistro Se Se con il pallonetto Yerai Gol bellissimo Bellissimo Yerai Under Eh no Eh no Sbaglia il rigore Under Bravo Errerin Under non ha angolato abbastanza I turraspe Destro Alisson Para il pallonetto E questo è il rigore decisivo Perché Se Mascherano segna Con la fascia di capitano La Roma alza questa coppa Mascherano Destro secco E si La palla è dentro I rigori li vinciamo noi Il torneo estivo anche E allora una bella rimonta della Roma Che spero sia una delle tante di questa stagione Come tra l'altro ce ne sono state l'anno scorso La Roma ha rimontato match contro il Barcellona E molti altri Insomma poi è stata anche rimontata beffata spesso Ma questa deve essere una stagione di grandi soddisfazioni E devo dire che è iniziata nel modo migliore Come piaceva a me Con belle vittorie Come quelle contro il Liverpool Ma anche con belle rimonte E partite emozionanti Come quella di oggi Partita faticosissima Ma emozionante al tempo stesso Quindi la vinciamo noi Questa Questa coppetta per così dire Ma comunque fa bene al morale Perché l'anno scorso Se ben vi ricordate Non l'avevamo vinta Detto questo Io ragazzoni Invito a lasciare comunque un like Faccio anche l'outro del video di domani Così mi anticipo Tanti collaboro Lasciate like Se il video vi è piaciuto Commentino qui sotto Per farmi sapere la vostra Altri consigli Chiaramente Per il mercato Che non è ancora chiuso Perché siamo Prima dell'11 Di agosto ancora Quindi avremo la supercoppa Nel prossimo episodio Con la Juve E poi tanto altro Per il resto Se non siete già Iscrivetevi al canale Iscrivetevi anche a Roma Crew Che trovate in descrizione Anche Matteo Che Filipponi Che ve l'ha spammata spesso Vi ricordo che questa live L'abbiamo fatta Seppur Con qualche difficoltà Chiaramente dovuta a noi Non alla sede Qui ho un'idea Che ringraziamo di cuore Perché ci ha fornito Il La sede E anche il materiale funzionante No? Quello che ci ha permesso Comunque sia Nonostante le difficoltà Di continuare Quindi Veramente molto affidabili E gentili Salutiamo il maestralitorio Che ci ha fatto compagnia Fino a questo momento Voi non lo sentite Perché è andato a vederci Un porno di là Con Con Mia Califa Ma vabbè Dettagli E' andato a vederci E' andato a vederci